La Promobol Sanitas di Bienno esce sconfitta dalla decima giornata di campionato in trasferta contro la Rivalta con il risultato di 3 a 0. Promobol Bienno ottiene una buona partenza grazie al sesteto titolare con Papa, Beschi, Tomasi, Gunnar, Basalari e Marinone. Il punteggio di 4 a 8. I troppi errori però accorciano il distacco verso il punteggio di 12 a 15. Sul 15 a 15 Taramelli, allenatore delle ospiti del Bienno, chiama il tempo per serare le fila. La mossa sortisce l'effetto desiderato e le biennesi si portano sul 15 a 18. Sul 18 a 21 il 7 è ancora combattuto ma il gioco è lento e infatti le padrone di casa recuperano fino al 20 a 21. Sul 23 a 24 Taramelli chiama il secondo tempo ma il punteggio si assesta su 26 pari e ai vantaggi le padrone di casa conquistano il set con il punteggio di 28 a 26. Il secondo set inizia con lo stesso sestetto con Sandrini al posto di Beschi ma questa volta le biennesi partono male e il punteggio va subito sul 5 a 2 per il Rivalta. Dopo qualche scambio concitato il punteggio si assesta sul 10 a 9 ma il gioco delle biennesi rallenta ancora e le ragazze del Rivalta arrivano sul 14 a 10. Su 16 a 10 doppio cambio per le ospiti con Di Giulio per Sandrini e Beschi per Papa. Sul 20 a 16 le padrone di casa chiamano il primo tempo e sul 22 a 16 Taramelli chiama il suo primo tempo del set ma la situazione non migliora e il secondo set finisce con il risultato dei 25 a 19. Il terzo ed ultimo set inizia con Di Giulio e Piantoni al posto di Bapa e Basalari. Dopo i primi 4 punti messo il segno il risultato si ribalta arrivando sul 7 a 4. Sul 9 a 4 Villa entra su Tomasi e Papa su Sandrini ma la situazione non migliore e il risultato arriva sull'11 a 6 quando Taramelli chiama il primo tempo del set. Il punteggio si assesta sul 18 a 14 con le biennesi che mancano l'aggancio. Sul 20 a 14 le ospiti chiamano il tempo ma la gara ormai è compromessa e il terzo ed ultimo set termina sul 25 a 18 con le ragazze del Rivalta che vincono la gara con il risultato finale di 3 a 0.